Buongiorno a tutti amici di Le Fonti Buongiorno a tutti amici di Le Fonti Buongiorno a tutti amici di Le Fonti ma su YouTube hanno la possibilità di utilizzare la live chat anzi cominciate a scriverci perché diciamo questa prima parte sarà suddivisa in tre parti diverse adesso andiamo a vedere con Enrico un po' cosa si aspetta dai mercati poi avremo il nostro titolo nel mirino della settimana e poi ovviamente lo spazio dedicato a voi con i vostri messaggi allora Enrico diciamo come inizia la settimana perché di questo si tratta le borse europee sono in positivo a partire dal nostro Fuzzimib seguono a ruota diciamo Wall Street una buona impostazione che cosa ti aspetti da questa giornata? Una buona impostazione che rimane ossia ormai in proprio tempo parliamo di rimbalzo rimbalzo in atto, rally chiamiamolo rally perché quando un rimbalzo va contro quello che è il movimento principale che da inizio dell'anno rimane ribassista si parla di rally ed è un rally anche sostenuto perché ripido non dà nonostante timori di recessione, inflazione cosa farà a settembre la Fed i dati della disoccupazione degli Stati Uniti usciti la settimana scorsa gli investitori per ora continuano a comprare Wall Street è sostenuta ma come anche l'Europa dalle trimestrali che come sempre per la maggioranza sono più che buone fatto sta in parole povere che finché non ci sono e mi riferisco magari proprio per chi fa trading finché non ci sono dei segnali chiari sul grafico di inversione è inutile cercare di entrare al ribasso di mettersi short solo perché un qualcosa è salito troppo ci sono tanti titoli che sono lontani dai massimi di fine anno ci sono delle rotazioni settoriali in corso mi sembra che questa mattina per esempio Enel tiri la volata del Fossimido quindi titolo che era andato sotto i 5 euro adesso sta di nuovo sopra i 5 oggi è ben comprato nonostante sia il 16 di agosto quindi nonostante diciamo che si cammina sulle uova finché non si rompono è bene provare ad andare avanti insomma tenere duro certo 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 sì tu hai parlato appunto di Enel e NRC abbiamo prezzi record alla Germania al Regno Unito quindi insomma probabilmente probabilmente anche per questo le bocce sono un po' sostenute anche da da questi dati so che volevi iniziare con una panoramica sul NASA sì perché sostanzialmente sostanzialmente si parla appunto sempre di ok adesso scende è salito troppo il rimbalzo è finito ma se poi in effetti noi andiamo a vedere la situazione proprio io parlo mi riferisco al Nasdaq perché credo che sostanzialmente sia l'indice che comanda insomma l'indice dove abbiamo titoli più importanti il Nasdaq come l'SP vanno sicuramente almeno a mio parere tenuti sempre sott'occhio per vedere quello che sostanzialmente fanno i mercati e adesso andiamo a dare un'occhiata credo che dovreste presumo già vederlo forse il Nasdaq dal mio pc adesso vediamo subito Enrico attento dalla regia indicazioni sì per vedere perché io ancora non riesco a vederlo perché ho un leggero ritardo ovviamente per eccolo qui ma della diretta perfetto andiamo qui abbiamo il Nasdaq in time frame daily i massimi di periodo sono di fine anno chiaramente poi è iniziato questo movimento ribassista che io ero andato a semplicemente mettere in questa sorta proprio di canale ribassista e che secondo me avrebbe dato con questa candela in questo test avvenuto il lunedì 8 agosto qui abbiamo una candela ribassista che va a prendere la resistenza e quindi anch'io come tutti ho detto ok c'è un movimento probabilmente molto 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 chiaro sull'indice lo vediamo come vada a muoversi a ballare anche abbastanza precisamente su questo canale che è un canale ribassista viceversa quando arriva qui a prenderlo rompe il rialzo e rompe il rialzo anche in maniera importante perché rompe il rialzo fa un pullback con la candela di giovedì poi abbiamo visto come sia venerdì che ieri perché noi ieri eravamo chiusi chiaramente ma tutte le altre borse mondiali erano aperte prosegue a rialzo e va a rompere in maniera evidente questo canale allora pur rimanendo in un'ottica che ci fa vedere come ci siano dei massimi decrescenti il massimo attuale non è più questo che era all'interno del canale deve deve formarsi ora quindi dobbiamo in teoria provare ad indovinare fino a dove arriverà questo questo rally che è partito qui a fine giugno e quindi è un rally che già ha quasi due mesi di vita come possiamo provare a vedere dove possa giungere questo rally semplicemente sempre con analisi tecniche quindi andiamo proprio in maniera molto chiara a evidenziare la trendline rialzista di medio e lungo periodo adesso la vado a evidenziare affinché sia più chiara per tutti la mettiamo con un bel rosso eccoci qua la nostra trendline rialzista ha dato sostegno al Nasdaq poi è stata rotta al ribasso e vediamo come ora potrebbe essere retestata la ripresa dove sto mettendo le due frecce quindi in area 14.500 e qui fungere da resistenza tutto questo movimento fa parte di un grande canale rialzista che appunto è stato perso e che ora qui dove abbiamo le due frecce rosse potrebbe essere retestato come resistenza ed ecco che qui potrebbe effettivamente andare a terminare il nostro rally e riprendere un movimento di debolezza non parliamo mai di crolli perché insomma far crollare il Nasdaq dovremmo tutti smettere di utilizzare i cellulari Apple di non comprare più su Amazon di non andare più su Google su Facebook quindi che il Nasdaq crolli lo vedo diciamo che i 14.5-14.6 potrebbero essere la fine di questo rally e quindi puoi entrare in una fase di debolezza lateralità ma per ora allora intanto ci sono già esatto ci sono ok perdona mi ti ho interrotto Enrico adesso ti do subito la parola nel senso che ci sono già un po' di domande ricordiamo peraltro che il focus principale visto che c'è una domanda sui tassi che adesso ti leggo subito è sempre sulle banche centrali soprattutto sulla Fed che a settembre dovrebbe proseguire con la sua di rialzo dei tassi di interesse abbiamo una settimana seppur un po' ridotta per la nostra borsa visto che eravamo chiusi anche intensa da un punto di vista macroeconomico intanto nei prossimi giorni arriveranno nuovi dati per testare l'economia americana a proposito della Fed che chiaramente prenderà ancora di più le misure rispetto alla fotografia che arriverà sullo stato di salute dell'America come l'aggiornamento sulla produzione industriale che è in arrivo quello sulle vendite al dettaglio in Europa tiene ancora a banco il tema dei prezzi dell'energia insomma con tutti i movimenti da parte delle istituzioni europee dei paesi europei per cercare di ridurre sempre di più l'indipendenza dalla Russia in Germania avremo anche lo ZEV quindi insomma Enrico avremo anche una una situazione un po' più reale rispetto a quello che sta accadendo in questo mese di agosto ti leggo appunto qualche ecco qui a proposito dei tassi Gianluca chiede qualche domanda possibile che l'aumento dei tassi non pesi sugli indici chieda Gianluca no l'aumento dei tassi ha pesato sugli indici perché dopo anni di tassi a zero già a fine anno si cominciava a parlare di aumento dei tassi e questo ha portato il Nasdaq da area quasi 17.000 ad area 11.000 quindi l'ha fatto ben stornare però si sa che gli investitori anticipano la borsa anticipa solitamente quello che è il mercato quello che accade le notizie e così via per cui hanno digerito hanno preso le misure sul fatto che la Fed alzerà i tassi e di fatti nell'ultimo nell'ultima rilevazione dei dati del lavoro c'è stata una disoccupazione leggermente più bassa di quello che si pensava e questo ha portato gli investitori a credere che Powell da Farco potrà essere un po' colombo ad altronde Powell col primo aumento all'1% si era di 100 punti base si era voluto secondo me tenere abbastanza le mani libere per poi farne di più bassi ma si sa che insomma ci si attendeva questo aumento dei tassi non è stata una sorpresa e quindi quando si è cominciato poi il mercato è venuto giù aiutato anche dalle tensioni geopolitiche ma in ottica di medio periodo tassi a rialzo portano le borse a soffrire e noi siamo adesso comunque ancora in un trend dell'assista perché non credo che andremo a fare nuovi massimi assoluti sul Nasdaq non credo che arriveremo di nuovo a 16.700 credo che stiamo vivendo un rimbalzo molto forte perché avevamo titoli molto bassi con aiuto di trimestrali molto buone e quindi credo che il rimbalzo non sia finito ma ripeto non mi aspetto massimi assoluti e volevo terminare sul Nasdaq solo un attimo se mi consente Manuela sì 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 certo perché questo livello che ipotizzo si potrebbe andare a prendere quindi area 14.5 14.6 vediamo per gli amanti tra virgolette di Fibonacci come essere il livello più importante il livello vario cioè il 61.8 di tutto il movimento che dai massimi ai minimi la risalita potrebbe apprendere questa resistenza in rosso che è coincidente con il 61.8 di Fibonacci quindi è un livello secondo noi prendibile ma allo stesso tempo poi molto molto difficile da superare ok allora poi ci sono già messaggi per chi tra poco ci dedichiamo a questo intanto ci ringraziano i nostri amici per esserci scrivono anche il 16 agosto ti hanno ribattezzato un saluto anche al romano perché mi salutano quindi ti salutano grazie Enrico Manuela ricambio i saluti con affetto da Roma va bene noi siamo qui assolutamente grazie a voi piuttosto per essere sempre presenti e per scriverci perché il vostro contributo è fondamentale direi Enrico se sei d'accordo di andare a vedere un po' il titolo nel mirino della settimana perché è una rubrica insomma che portiamo avanti già da un po' e quindi è un po' una tradizione ormai nello spazio che ti riguarda e allora vediamo anche per questa metà di agosto qual è il titolo che hai scelto che è cena allora raccontaci un po' di che titolo si tratta e perché hai portato questo oggi beh in questo caso il titolo che vediamo già sul sul time frame mensile è un titolo che secondo me va assolutamente eseguito perché ha un trend rialzista molto importante ed è rimasto leggermente indietro rispetto agli indici nel senso che il suo rialzo secondo me è partito più o meno contemporaneamente con l'imbalzo degli indici ma come il core business è abbastanza decorrelato e ha un grafico estremamente chiaro quello che vediamo innanzitutto è sul sul time frame mensile che ci offre la griglia di Fibonacci ossia si è andati dopo i massimi fatti anche per Siena assoluti a retestare il 50% del movimento principale quindi quando si va a prendere il 50% pur non essendo uno dei numeri dei Fibonacci ma viene inserito ormai per convenienza chiamiamolo così sulle griglie il ritraccio del 50% è un ritraccio importante da lì si è partiti con un rimbalzo poderoso e vediamo che adesso il titolo se dovesse fare come è perfettamente plausibile perché il rimbalzo degli indici dura da quasi due mesi quindi adesso ci sta pur in una prosecuzione di assista di avere un po' di fatica se dovesse retestare quello che è il 38,2 di Fibonacci e quindi area 50,50 51 dollari ecco quello è un livello supportivo che consente l'ingresso a favore del trend primario a un livello interessante perché abbiamo un supporto e lo si va proprio anche a evidenziare se vogliamo passando al time frame daily dove si vede come ci sia stato un movimento un movimento sicuramente chiaro su Siena allora in questo caso lo posso condividere anche io senza nessun problema ah eccolo qua ce l'abbiamo ok perfetto sì 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 arriva antifrancesco siamo in sintonia con la regia salutiamo anche Francesco perché tutti gli amici ovviamente salutano a me Enrico ma se non ci fosse Francesco noi non potremmo se fosse Francesco potremmo fare le dirette su Whatsapp e chiedervi è il motore della diretta Francesco assolutamente anzi non facciamolo arrabbiare se no oscura tutto perché io non ho assolutamente potere lui il capo allora detto questo è un modo per se è la nostra condizione sine qua non Francesco se no non possiamo non possiamo operare allora vediamo su questo time frame sì sì sul daily vediamo proprio come la trend line ribassista diagonale sia stata rotta al rialzo sostanzialmente vediamo è un po' non dico il gemello perché non lo è ma ricorda un po' il Nasdaq che abbiamo appena visto c'era quella trend line dinamica cioè obliqua diagonale che poteva fare resistenza invece è stata rotta senza difficoltà al rialzo e un eventuale retesta appunto in area 50 e 50 o 51 dollari troverebbe sia quella diagonale ad essere un supporto quindi viene a convalidarsi come supporto ma in sincronia in contemporanea vediamo anche il supporto statico cioè orizzontale quindi un pullback in area 51 quali vantaggi offre primo supporto quello diagonale secondo supporto quello statico cioè orizzontale e sostanzialmente entrare avendo anche la protezione della soglia psicologica dei 50 dollari cifra sonda e quindi entriamo dopo che il trend è ripartito ma in una fase in cui abbiamo un'area supportiva importantissima quindi secondo me in watch list Siena Corporation ai 51 dollari esatto io l'avevo pronunciato male ma poco importa insomma ma no non so se l'hai pronunciato male non ho mai capito come si pronuncia l'ho detto differente così ho detto almeno uno di due lo dovrei aver detto giusto per forza 50 e 50 speriamo non ci sia una terza versione a prescindere da questo l'importante è vederlo graficamente prezzi eccetera e in ogni caso i nostri titoli nel mirino poi potete approfondirli insieme a Enrico e insomma anche questo titolo finisce in watch list e allora andiamo a leggere qualche messaggio scriveteci ancora sulla nostra live chat per titoli a vostra scelta non solo anche indici e commodities vediamo un po' cosa state seguendo oltre ai saluti che ci mandate sempre in questa giornata allora Alberto chiede se Amplifon titolo che insomma ricorre sempre o comunque abbastanza frequentemente Enrico può essere una buy opportunity da acquistare in questo momento appunto no 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 perché oggi è andato in sospensione per eccesso di ribasso intanto guarda non ve lo faccio neanche vedere Amplifon per un motivo molto semplice oggi perdeva l'8% perché c'è stato un profit warning perché mi sembra Sonova la Svizzera che è un competitor di Amplifon ha rilasciato dei dati pessimi quindi tutto il comparto è in forte sofferenza Amplifon potrebbe andare a riprendere tranquillamente i 25 euro e i 25 euro per Amplifon sarebbero un triplo minimo interessante aveva chiuso sui 30 venerdì oggi sta a 28 sta perdendo quasi il 10% e dopo un segnale del genere questo segnale ci dice che il mercato molla Amplifon quindi se il mercato oggi lo vende noi dobbiamo seguire il mercato non cercare di mettercisi contro se il mercato lo vende in questo momento fa meno 7,84 noi non possiamo comprarlo facciamolo ancora sfogare un po' in volatilità ribasso i 25 secondo me sono un livello interessantissimo d'accordo allora Augusto scrive rotazione su utilità casa recessione per problema gas ritardo rialzo tassi in Unione Europea e poi intesa per quello luce insomma qual è la sua view poi vediamo se tu sei d'accordo mentre Enel tonica allora cosa ne pensi si parla ancora di una mossa un po' in ritardo da parte appunto in Europa e poi il problema gas insomma ancora tutte queste problematiche che effettivamente devono trovare soluzione secondo me tonicità semplicemente perché sono titoli qui adesso abbiamo Enel stiamo vedendo sono titoli importanti che allora se Enel quando sta quassù a 9 dove vado a mettere la freccia dice io ti do un dividendo di 20 centesimi sto dicendo a caso 20 centesimi su 9 euro hanno un certo peso quando però il titolo sta qui a 5 e mi danno sempre 20 centesimi in percentuale mi stanno rendendo altissimo quindi abbiamo un titolo ovviamente solido ovviamente un titolo che è anticiclico e quindi in una fase di ipotetica a me già la parola recessione mette paura diciamo di difficoltà della congiuntura economica vado a cercarmi chiaramente dei titoli anticiclici allora abbiamo un titolo primario italiano che so che domani mattina non fallisce che costa poco e che come andiamo a vedere è su un'area supportiva di lungo periodo perché qui vediamo i vari supporti siamo nel 2014 qui è questo è un grafico weekly i vari supporti che tengono Enel in maniera precisa qui erano nel 2016 ed ecco che dopo sei anni magicamente qui il supporto viene testato e Enel riparte quindi Enel secondo me è un buy al di là di quella che sono le situazioni congiunturali presso dell'energia eccetera eccetera perché comunque l'investitore il trader che fa analisi tecnica vede che qui a 4,60 Enel rimbalza casualmente in maniera precisa su questa trendline ok tutti i titoli anche A2A ERA IREN hanno un grafico simile se noi andiamo e se mi dai un secondo facciamo un po' di analisi tecnica certo parlava di utilities assolutamente un po' di analisi tecnica va bene va bene va bene ecco qua questo questo che vediamo è IREN quindi un altro titolo italiano utility beh casualmente come dicono l'analisi tecnica non funziona va bene non la sai fare più che non funziona vediamo come 1,70 sia un livello dove il prezzo si ferma ed era un livello che prima era in maniera molto precisa una resistenza quindi abbiamo titoli che hanno perso era fatti massimi pre pandemia a 3,12 adesso è 1,70 quindi titoli che hanno perso il 40% solidi con buoni dividendi è chiaro che il mercato a un certo punto quando c'è brutta aria va sui titoli anticiclici e questi sono titoli anticiclici top ok ok no no ottimo ottimo poi giustamente l'amico poneva diciamo acceso il riflettore proprio sulle utilities a causa della recessione di recessione ancora non possiamo parlare ma naturalmente noi guardiamo avanti il mercato guarda avanti e quindi mettiamo in conto insomma quello che potrebbe succedere allora ci sono altri messaggi rubiamo ti rubiamo ancora qualche minuto Enrico dunque Paolo scrive ciao Manuela ciao Enrico Canopy Growth ha invertito trend Canopy Growth parliamo di cannabis se non erro non erri non erri ok Canopy Growth Corporation sentito come l'ho pronunciata bene Canopy Growth Corporation esatto allora qui siamo sempre sul weekly io lo vorrei vedere un attimo sul mensile perché chiaramente qui veniamo da una discesa a piombo in senso dai 55 dollari di febbraio 2021 adesso siamo a quasi 4 dollari allora vista la vista la importantissima area possibile di salita che c'è non è fondamentale entrare adesso è fondamentale entrare quando il mese di agosto sarà finito perché perché queste tre candele che vado a evidenziare potrebbero formare un pattern fortemente rialzista forse il pattern più rialzista che c'è parliamo della Morning Star la stella del mattino qual è la condizione per la quale la Morning Star sia un pattern corretto che la terza candela quindi quella di questo mese vada a chiudere sopra alla metà della prima candela e allora in quel caso il pattern è formato e avremo un pattern fortemente rialzista dopo una lunga discesa oggi siamo al 16 quindi fra i sabati e le domeniche mancheranno una decina di giorni di borsa io attenderei fine mese perché se Canopy dovesse essere sopra i 4 dollari vuol dire che la terza candela quindi quella attuale sarebbe come chiusura più alta della metà della prima questo sarebbe un fortissimo segnale long quindi in ingresso lo stop loss sotto al minimo del pattern quindi sotto al minimo della candela centrale che è la star cioè la stella quindi stop loss sotto area 2 dollari per cui si rischiano 2 dollari per ogni azione che si compra ma se ne possono andare a prendere tantissimi nel senso che un livello se un trend inverto è un livello che si può andare a raggiungere è questo che vediamo essere stato in quest'area qui precedentemente supporto e ora resistenza quindi si potrebbe entrare a 4 per avere un target di medio di 13 euro quindi andare a rischiare 2 dollari per cercare di farne 9 quindi lo terrei molto sott'occhio e sopra i 4 dollari mi piacerebbe il long ok allora Gianluca scrive a proposito di stock picking perché lo diciamo sempre che in questo momento al di là dei settori di riferimento è utile andare a guardare proprio il prezzo dei singoli titoli quindi attraverso un'analisi tecnica naturalmente sempre uno sguardo anche all'analisi fondamentale insomma se si ha una panoramica completa è sempre bene procedere in questo modo però appunto vale di più tra virgolette il singolo titolo poi ciascuno ha la sua strategia ovviamente però Gianluca scrive Intel quindi vuole analizzare questo titolo è solo un problema geopolitico con Taiwan perché è rimasta indietro dall'inizio del rimbalzo appunto questo è il classico esempio rimbalzo ma ci sono dei titoli che rimangono indietro come vedi Intel? allora Intel che sto vedendo adesso lo passiamo sul time frame weekly vediamo che tutta quest'area che avevo segnato con questa zona in blu è un'area supportiva fortissima il titolo aveva fatto un doppio massimo ai 69 dollari quindi arrivati a questo supporto ai 43 si dice ok da 70 a 43 un titolo come Intel mi perde il 30% cerco il long viceversa questo titolo questo schiedo scusa questo supporto area 43 è stato perso anche male e poi area 40 è stata retestata come resistenza e ancora ha respinto il titolo quello che è interessante vedere è che c'è un tentativo di rimbalzo però anche qui se noi andiamo sul mensile per renderci conto cosa sta facendo il titolo ecco questa è molto semplicemente della situazione si è rotto questo livello se riesco a tracciarlo ok si è rotto questo livello e visto così il titolo secondo me qui è pericoloso adesso cercare il long al di là di tutte le situazioni geopolitiche eccetera eccetera vediamo come anche questa trend line rialzista sia stata rotta al ribasso quindi credo che potrebbe essere più prudente aspettare un livello dei 30 dei 30 dollari ecco qua lo vediamo abbastanza chiaramente essere stato resistenza resistenza area supportiva i 30 dollari se dovessero essere presi sarebbero obbligatori per farci considerare su Intel per ora il grafico mensile non dà alcun senno alcun senno chiedo scusa di rimbalzo anche sul settimanale ecco vediamo siamo sotto una marea di resistenze quindi per ora attenderò allora poi altro messaggio Antonello che scrive buongiorno cosa pensate di Prismian Ferragamo e IGT che è International Game Technology quindi partiamo da Prismian sì allora Gianluca ci ringrazia grazie 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 Gianluca allora Prismian è un titolo che ha fatto una serie di rialzi ripetissimi adesso andiamo a vedere il daily e però ecco va a consegnare con la candela di venerdì un pessimo segnale questa mattina mentre parliamo Prismian fa più 0,65 quindi sostanzialmente va a ritestare la metà di questa candela rossa diciamo sempre con una candela con un corpo così stesso la sua metà a un livello importante entrare adesso dopo una salita così ripida e con questa candelaccia rossa io non me la sento c'è un gap di un'area 30 euro e 30 e qui aspetterei per l'ingresso long per ora credo che Prismian abbia dato già soddisfazione nell'ultimo mese quindi credo che possa adesso rifiatare e in area 30 sarà interessante Ferragamo abbiamo anche qui una situazione molto chiara di analisi tecnica ok scusate alcuni miei scarabocchi alcuni studi che avevo fatto sul grafico ma forse anche divertente per gli ascoltatori vedere esattamente come lavoriamo ne sanno qualcosa gli amici che ti seguono ai tuoi webinar sei più un pittore che un mix va bene no no ma è bello vedere anche tutti i disegni sui grafici perché dimostra dicendo tu insomma come si lavora anche su un grafico al di là poi dell'effetto finale e dell'analisi finale sì ecco qui c'erano degli appunti dei potetici target che avevo preso però sostanzialmente quello che vediamo oggi eliminando queste linee colorate che non ci interessano quello che vediamo oggi è che abbiamo questa resistenza che ha fatto proprio un doppio massimo qua prima era supporto quindi questa resistenza è stata ben sentita e guarda caso oggi con le borse in verde ragamo fa meno 0,34 quindi questa resistenza dei 18 euro peraltro cifra tonda funziona quindi siamo sotto resistenza con candela ribassista e non entro qua ragamo allora per il punto se mi va a tornare su questo livello area 16 e 80 lo vediamo essere qui stato resistenza 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 qui poi ferragamo rompe il rialzo e lo prende come supporto è molto geometrica la situazione sui titoli di borsa bisogna avere la pazienza di sporcarsi le mani e tracciare trend line quindi questo livello adesso potrebbe essere ripreso quindi i 16 e 80 secondo me sono interessanti per i long ok e poi andiamo a IGT International Game Technology allora è un titolo che non ho analizzato e quindi lo sto vedendo tra virgolette in diretta beh mi sembra che abbiamo una situazione abbastanza abbastanza chiara ossia i massimi fatti inerdì sono una resistenza molto forte molto forte vediamo proprio come il prezzo li abbia chiaramente sentiti e la candela di ieri è molto è molto negativa a questo punto IGT dai 23 potrebbe tranquillamente tornare ai 20 i 20 sono importanti perché i 20 sono stati rotti con questa candela con un corpo molto molto esteso e quindi la rottura dei 20 ha dato il là allo strappo rialzista quindi ora i 20 sono un'area supportiva importantissima che se presa potrebbero effettivamente dare ehm il via a un successivo rimbalzo sostanzialmente vediamo un canale ribassista che è stato rotto al rialzo e quindi aspetterei un retest di area 20 per il long ok e poi c'è questa domanda Enrico su un titolo come Lucid Motors che io non conosco non so se tu conosci però lui dice che non ha un importante storico ha senso un'analisi tecnica oppure contano dei più fondamentali e notizie e news al di là del titolo che adesso possiamo andare a vedere ma insomma quando abbiamo di fronte ci troviamo di fronte a un titolo che appunto non ha troppo storico un titolo relativamente nuovo che cosa bisogna guardare soprattutto se l'ascoltatore mi basse una battuta ma senza voler essere antipatico quando abbiamo un titolo del genere bisogna guardare un altro titolo cioè sì però se nessuno guarda quel titolo non diventerà cioè adesso ovviamente non facciamo troppo marzullo ma se nessuno guarda quel titolo non diventerà mai un titolo che potrebbe essere seguito e che potrebbe dare anche degli spunti interessanti come ci si muove in questi casi ripeto io non allora se ho un titolo che è quotato da poco tempo abbiamo le industrie Nora in Italia abbiamo Alfonsino ne abbiamo altri gli ascoltatori l'hanno visto più tante volte da vedere anche i time frame se non addirittura i mensili per capire ok nella vita del grafico cosa abbiamo in testa e sotto i piedi di importante per cercare poi di andare a fare una scrematura un filtro e prendere la mira quando ho un titolo che è quotato da sei mesi se io vado a vedere il grafico mensile mi dà solo sei candele quindi è difficile trovare supporti di resistenza chiaramente io so che quel titolo esiste dopo un anno che è quotato posso cominciare a guardarlo perché magari sul wiki ho 50 candele ma sono anche poche ma siccome noi abbiamo 4.000 titoli sul nice e ne abbiamo altri 2.000 in Europa vado vado dove posso far danni nel senso vado dove posso vado a giocare a pallone dove c'è spazio dove sono marcato troppo stretto e non ho aria da respirare per muovermi poi è chiaro che se uno invece conosce il titolo per core business perché ne è cliente perché gli piace perché ha delle azioni che in banca l'hanno convinta lo segue però certo ma Gianluca aggiunge per esempio è utile confrontarlo con Tesla è un titolo che non conosco quindi non conosco il core business quindi seguendo il ragionamento di Gianluca se non si conosce un titolo prima probabilmente a approfondire i fondamentali e poi chiaramente io invito Gianluca se ha voglia di contattarmi così posso un attimo provare a informarmi e condividere con lui quelle che sono le idee può scrivermi all'email o assolutamente in tutto